La famiglia delle Barbie, la sesta di cassa Oh, loro sono arrivate! Ciao ragazze! Ehi, ciao! Allora, questa è l'ultima settimana di terza media? Ezza! Oh, metti pure loro per il modietto, io non mi sposto Grazie E ragazze, voi il prossimo anno in chi li sei andrete? Vabbè, in che senso? Come non lo fai? Il posto anno dovremmo andare nel liceo per disegnerare il lavoro che dovremmo fare in futuro No, lo so che devi dargli un liceo, ma non saremo più insieme? Beh, difende, perché io non so se diventare una pettina friffe o una cameriera Io voglio fare l'estetista Ma fare la cuoca non è male Cosa? Ma io voglio diventare una dentista Però anche la lavapiazzi Però non sarebbe neanche male fare la maestra delle elementari Stia insieme, matematica Vogliamo fare lavori diversi, io penso finiremo dello stesso liceo Ma come faremo ad essere amiche? Beh, ci avremo un modo, dai E senza la campanella Dobbiamo iniziare ad andare Andate pure, io metto la mia roba Ok, vieni Flaminia A trafofo Ciao Uffo, cosa faccio? Seguo il mio lavoro dei miei sogni o le mie amiche dei miei sogni? Così dura la vita Mezz'ora dopo? Uffo, è una stessa dura, come sarò sempre senza le mie amiche del cuore? Ma io non voglio diventare una fameriera o un estetista Io, professoressa? Uffo, loro non sembrano importare Dimmi pure Allora, Giulia Cesare è nato nell'O... E che ne dico di Fiorina? Neanche lei sembra importare Fiorina? Tocca a te Oh no Non dovevo essere interrogata Ma la sua so... A casa dopo la scuola? Ciao tesoro, com'è? E' andata la scuola? Beh, direi non bene Ah, cosa le sarà successo? Ci chiamo Non so, non so Non mi hanno sperato Non mi hanno sperato Non mi hanno sperato Non mi hanno sperato Si trattarà di una decisione Non mi hanno quale Forse un liceo a prendere Casha? Mamma, non ti hanno mai insegnato a bussare? Non serve perché tu sei triste e sono qua per aiutarti Ora dimmi qual è il problema Non so quale liceo prendere Perché voglio seguire i miei sogni E il mio lavoro Ma non voglio perdere Flaminia e Casha E Fiorina Cos'è? Un suono Sì, 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 sì Beh, in effetti è una scelta dura Casha però devi affrontarlo Ho trovato Ah sì, cosa? Sceglierò le scuole che scelgono Flaminia e Fiorina Primo, vogliono fare un lavoro diverso da te Secondo, non è detto che saranno insieme Terzo, magari scelgono costosi o pieni Tanto, in contavere i soldi Non mi importa se il lavoro non mi piacerà O magari loro la pensano così Litigherete per chi andrà in un college che non vuole Poi il motto è divertirsi Piacere Magari non ti la piaccia Non sei brava e ti licenziano Ma allora cosa fai? Casha, la vita va avanti E te ne sentirei telefonicamente Vi vedrete E se le perderai Beh, te ne farai nuove amiche Poi siete amiche dall'asilo Non vi perderete mica Certo, perché Siamo sempre state insieme Davvero? Fiorina se n'era andata Dalla seconda E vi siete ritrovati Solo quest'anno E non siete ancora amiche? Sì, hai ragione Ah, hai ragione Domani ne parlo con Flaminia e Fiori Brava, così ti vuoi Ora però devo andare a fare Preparare la merenda Sì Il giorno dopo All'ora di pranzo Mi dispiace ragazze Cercheremo di essere amiche Ma funzionerà Non lo so, ma siamo amiche dall'asilo È vero Poi Fiorina se n'era andata E' zonata Noi siamo Bello stesso amico Ci sentiremo Telefonicamente E cercheremo Di vederci il più possibile Sì, questa è proprio una Bella idea Se lo affronteremo Insieme L'ultimo giorno di scuola Oh, sei moffione Adesso finiremo Sì, ci vediamo Troppo l'estate Speranno che saremo insieme Cinque Quattro Tre Due Uno Tring Yeah Fine anno Buone vacanze a tutti Tre mesi dopo Ok Speriamo che loro saranno anche in questo uccello Dai Devo entrare Speriamo così Nei Fri Speriamo cliccando